Stavolta non l'ho aperto, quindi non so che cosa ci sia dentro, ma adesso lo leggiamo subito. Venite alla zigurat, eh, amici miei! Stiamo leggendo! Ok, poi un'altra cosa. Qui fuori, dai, qui fuori, dai, qui. No, ma c'è un'altra cosa, allora, questa cosa... Eeeh! Ravager, Ravager! Aiuto, aiuto! Ho ammazzato un sub. Mi stecca! No, povero! Di chi è il Ravager, oh! S3, S3! Ci legge? S3, C3, bro! Wow! Ok, allora, l'altra cosa che c'è da vedere è questa struttura qui. Oddio! Ma questa io la conosco bene! È vero, dov'era questa? Era qui. Infatti io l'ho vista da prima, però non vi ho detto niente, stavamo parlando di altro. E non l'ho vista. Sentivo felice così. Mi hanno fatto la tomba. Io vi ricordo che io... Non è possibile a te! No, io tutti i giorni sto ricevendo delle minacce di morte da parte del signor Rapitore, quindi la situazione sta diventando sempre più aspra, io mi cago addosso perché c'è la mia tomba. Poi è anche precisa, eh, morirò oggi alle ore 20. Tra mezz'ora! Tra mezz'ora! Manca poco! Guarda il coro!